E quindi siamo qua fuori senza biglietto Cioè tu lo dovresti incontrare perché sai che t'hanno già detto che te lo danno ma io purtroppo rimane così Non hai manco pagato, io non so proprio com'è possibile una cosa del genere Il tuo giorno fortunato stiamo entrando con gli organizzatori È troppo bello L'onore e il piacere di poter introdurre stasera per noi Ellen Baurstein Big Ray Big Ray Dopo le parlate del pubblico ci saranno delle sequenze particolari Di cui i creatori sono protagonisti E che vedremo con anche l'audio Dopo i quali ciascuna di qualsiasi mezza verrà commentata direttamente dai personaggi La prima domanda è tanto Buonasera a tutti Abbiamo tre meravigliosi tre primi Oscar Entrambi legati strettamente all'Acco Studio Se io vi dico Acco Studio Spazio Spazio ить I love the Like a star in the sky market Su start Ok we have to go, I'm sorry Grazie Grazie Scusate io dobbiamo andare via Sono trent'anni che lo aspettiamo Lo capisco Me l'abbiamo buttato è stato semplicemente meraviglioso essere lì vicino a quegli attori fenomenali a Martin Landau e l'emozione che abbiamo provato è una cosa che non si può dire quindi è inutile che cerchiamo di dirla cercherò di dirvi che Angela sembrava che se la stesse facendo addosso è tutto qua le ho fatto una foto che mi dovrà pagare molto caro devo dire che mille euro posso essere una cifra una cifra accettabile la stessa facendo addosso can you feel it can you feel it can you feel it allora dopo 30 anni sono riuscita ad esaudire un sogno e il sogno è stato quello di incontrare Martin Landau qui alla festa del cinema di Roma in una cornice eccezionale bellissimo l'auditorium di Roma è veramente bello e siamo contenti io sono emozionata perché non solo io ho parlato con lui l'ho toccato sono passati 30 anni e ce l'ho fatta grande grande John Koenig grande comandante Koenig grande Martin Landau e io ad actor studio grande Marco che ti ha fatto una foto grande Marco che mi ha fatto una foto che domani mi manderà e manderà insomma sono contentissima e siamo stati veramente fortunati e è bello tutto ciò è bellissimo è bello Grazie a tutti. Grazie a tutti.